Lo hanno aspettato fuori dalla scuola per poi picchiarlo selvaggiamente in mezzo alla strada. È stato vittima di una spedizione punitiva il 14enne studente dell'Istituto Einaudi di Pistoia che nel pomeriggio di lunedì è stato massacrato di botte da un gruppo di almeno tre minorenni pistoiesi. Alcuni ragazzi di Quinta Superiori, compagno di 14enne preso di mira, hanno tentato di difendere la vittima dalla furia degli aggressori, una rabbia tanto violenta da provocare al giovane, una costola rotta e un forte trauma cranico. Sul caso indaga anche la polizia di Pistoia. L'aggressione è avvenuta fuori dalla scuola sulla strada alle mie spalle durante la rissa. Uno dei ragazzi ha corso in difesa del 14enne, è stato colpito violentemente al volto, tanto da fargli saltare via un dente. È intervenuto anche il genitore che ha visto la scena e ha bloccato la macchina in mezzo alla strada per cercare di soccorrere il figlio. Sotto shock la preside dell'Istituto che ha corsa fuori dalla scuola in mezzo alla strada per provare a sedare gli animi. Questo ragazzino è stato difeso da alcuni nostri studenti, della classe Quinta. Quando sono arrivata praticamente la situazione diciamo che si è risolta. C'era stato anche un ingorgo di macchine, insomma comunque poi il traffico si è regolarizzato. Certo è che poi in serata abbiamo saputo che questo ragazzino che è stato picchiato non sta per niente bene, insomma c'ha anche delle conseguenze importanti. E noi ora stiamo cercando di fare chiarezza in tutti i modi, di capire come è stato possibile un evento del genere, ecco, una cosa che ci ha lasciato sconcertati. Mi sembra proprio che si siano appostati qui, non saprei se dire è stata una rissa, è stato un momento di violenza inaudita, fatto sta che sono eventi che non devono assolutamente ripetersi. E intendiamo capire molto bene, andare fino in fondo e capire cosa è successo, perché non devono ripetersi, assolutamente.